Sottotitoli e ragazzi, benvenuti a mio canale. Sono felice di avervi qui per un nuovo video di DIY. Oggi vi mostrerò come accelerare la rotazione di un motoro universal salvaggato da una macchina di cuocere usando un dispositivo super cheap disponibile su Amazon, Ebay, Aliexpress etc. Il motoro universal è un tipo di motor elettrico che può operare su AC o DC e usa un magneto elettromagneto come stator per creare il suo campo magnetico. Questo tipo di motori normalmente hanno 6 connecatori. Ci sono molti tutoriali su come testare e identificare questi connecatori con un testatore. Ma tutto che bisogna sapere è che, iniziando dal connecatore top, inizialmente i due primi sono i suoi controllo di velocità. Poi troverete i suoi statori, il terzo e il quarto, e poi i suoi pennelli, il quinto e il quinto. Questo dispositivo è un regolatore di voltage e costa solo 2 o 3 soldi. Andiamo a aprire. Andiamo a aprire. бы ad Eventi ad Grazie a tutti. Questo è il potenziometro per aumentare o diminuire il RPM. E questi sono i 4 connessioni, 2 per l'input e 2 per l'output. E questo è il potenziometro per aumentare il RPM. Qui puoi vedere le misure di questo regolatore di voltage. Potete connectare l'input to the plug e l'output to the motor. That is all you will need. A cable with its plug. Some connectors for the cables, any kind will work. And obviously your universal motor. You can connect the motor to run clockwise or counterclockwise, as I did. Following the diagram we already saw, I made a knot to the first two connectors cables, as I will not use them. Then I connected the output of the voltage regulator to the third and fifth connectors of the motor. And I jump at the fourth to the sixth connector of the motor. The last thing to do is to connect the plug cable to the input of the voltage regulator. The last thing to do is to connect the plug cable to the input of the voltage regulator. To test the motor, I lock it in the bench vise to be sure it can't move. Yeah. Let's listen. Okay. Come vedete, quando il potenziometro è a zero, il motore è stile. Poi, se avvicino il potenziometro, posso aumentare o diminuire facilmente la rotazione per minuto come preferisco. Questi motore di washing machine sono grandi per ogni progetto di DIY, perché hanno abbastanza di potenza e possono arrivare a 13.000 rpm. Potremmo aumentare e diminuire, ti dà l'opportunità di rendere la maggior parte del potenziale del motore per libero. A presto! 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 Buongiorno a guardare anche i miei altri video di DIY, ho lasciato i link nella descrizione. E' tutto quello che ho per voi oggi, spero che avete piaciuto questo video. Se l'ho fatto, per favore di iscrivervi al nostro canale, lasciatelo con i miei amici e, come sempre, grazie per la visione!